La riunione di sabato con i capigruppo richiesta dal Presidente del Consiglio, erano presenti il Presidente del Consiglio, il Ministro Alfano, il Ministro Pinotti, quindi la Difesa e il Ministro degli Esteri. Ha parlato il Presidente del Consiglio 20 minuti dove ci ha parlato di ottimismo, dove ha parlato che gli italiani non bisogna spaventarli, dove ci ha detto che anziché mettere le forze dell'ordine sul territorio bisogna parlare di unità nazionale, ci ha parlato che è stata sconfitta la mafia, forse nella sua testa, io la mafia non mi sembra che sia stata sconfitta e che visto che è stata sconfitta la mafia riusciremo a sconfiggere questi terroristi, punto, e poi si parla di unità nazionale. La cosa che voglio evidenziare è che se bisogna parlare di unità nazionale bisogna essere chiari e onesti con tutti, bisogna mettere sul tavolo che cosa si sta facendo, mi spiego meglio, Alfano parla di fase 2, ma che cosa vuol dire fase 2? Tecnicamente e in modo concreto che cosa sta facendo il Ministro degli Interni per la fase 2 e soprattutto, ma la fase 2 non c'era già dopo i fatti di Charlie Hebdo e quindi dalla fase 2 siamo ripassati alla fase 1 e adesso siamo ripassati alla fase 2 e quando è stato il momento in cui siamo tornati alla fase 1, quindi se bisogna essere uniti e io sono dell'idea che bisogna essere uniti in questo momento, dobbiamo essere tutti uniti e essere uniti non vuol dire accettare passivamente tutte le cose che ci vengono proposte dal Presidente del Consiglio o dal Ministro Alfano, se bisogna essere uniti si lavora sullo stesso tavolo, sabato non si è lavorato su un tavolo, si è assistito il Presidente del Consiglio che ha fatto la sua solita, il suo solito teatrino, il suo solito teatrino questa volta invece con i giornalisti, con i capi gruppi.